Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, ecco stasera come vi ho annunciato nell'altro video sulla fiera di Montichiari ho acquistato questa cartuccina della TAR-XE GS come vedete per poter utilizzare, vedete là sopra il monitor, la TAR-XE ve lo faccio vedere perché non si riconosce se no eccolo qua, con i suoi pulsanti colorati per cui andremo a inserire la nostra cartuccia e con questo gioco è possibile utilizzare quindi la sua pistola in dotazione che provo adesso per la prima volta Allora vediamo un po', accendo il monitor, ovviamente la pistola è utilizzabile, lo sto usando con il, ecco che è partito già il gioco vedo di cercare di inquadrare un po' meglio solo il monitor ecco qua, adesso sembra bene a fuoco eh, e come dicevo, ecco vedete funziona già perché sta sparando anche se non ho iniziato il gioco è utilizzabile solo su monitor CRT perché usa la scansione del pennello elettronico qui eh, sulla pistola c'è un eh, ricevitore e ha, diciamo, penso sia il frorosso diamo lo start e vediamo, mirando, uno l'ho beccato, uno, due, eh non è così semplice eh come vedete adesso vi faccio vedere sto cercando di mirare, adesso lo miro ma andavo un po' a caso riproviamo, adesso, perché volevo farvi vedere con la pistola eh, adesso cerco, mirando proprio con l'occhio nel mirino eh, non è così semplice eh, ho fatto due centri su 20 colpi, così dice, percentuale di accuratezza 10%, non è molto carino faccio ancora una bella partita eh, vediamo un po', vediamo ancora lo start vediamo se beh, sono peggio di prima ma forse uno l'ho beccato sei fatti, uno, tre per cento, trenta colpi ovviamente un po' non è così semplice mirare, uno solo, sempre tre per cento su 20 secondi eh, vi dico che non è semplice usare questo oggetto, ma per niente mi dovrò allenare, ho fatto meglio prima, ok, ok non so che accuratezza abbia eh, la mira, due l'ho presi, sette per cento, vabbè, un pochino meglio beh, è molto interessante eh, ve lo consiglio, se lo trovate su ebay, io l'ho trovato alla fiera, ma se lo trovate anche su ebay, l'ho pagato 12 euro il giochillo io, quindi direi ottimo prezzo, magari su ebay lo trovate qualcosa di più, uno, eh bisogna cercare di far collivare il mirino, proprio come la pistola, tende un po' a sinistra eh, due colpi, nove per cento, vabbè, sto migliorando, sto imparando un po' anche i difetti dell'arma, va bene, io vado avanti ad allenarmi e a divertirmi nel frattempo, vi saluto, se vi è piaciuto anche questo video mettete il like, è stato molto breve, però era tanto per farvi vedere questo bello oggettino che ce l'avevo a corredo dell'Altari X e GS ma non avevo potuto provarla perché non avendo la cartuccia col gioco, va bene, io vado avanti, ecco, intanto vi saluto, vado avanti ad allenarmi, ok, due l'ho presi, buona serata e alla prossima, tre, forse sto migliorando ragazzi, eh, eh, vabbè, tre, sei per cento, come non detto, alla prossima!